alla base. Io a questo proposito ti ho segnalato, adesso non so se poi hai ricevuto, due cose importanti. La primissima è il sito del notariato.it che spero, ecco qua, c'è la home page adesso in onda e all'interno di questo sito voi se andate verso il basso o comunque se lo girate, ci saranno molte informazioni, c'è la possibilità di vedere tutta una serie di raccolta di informazioni e in alto nel menu c'è la possibilità di andare a vedere le guide. All'interno delle guide ce n'è una che è stata pubblicata, è l'ultima recente, che si chiama Conoscere per proteggersi, che è un vademecum redatto dal notariato per dare le conoscenze diciamo basiche per valutare alcuni aspetti della nostra vita. Si parla di regime patrimoniale all'interno del matrimonio, si parla di cosa succede quando noi siamo all'interno di un'impresa familiare, si parla di atto di compravendita, si parla di contratti di affitto, cioè è proprio un vademecum che può servire per le informazioni base che sia una donna che un uomo aggiungerei, perché questo non è solo indicato per le donne, con una spiccata volontà di aiutare le donne a conoscere delle nozioni base, ma è utile per tutti. Mi ricordi il sito si chiama? Si chiama www.notariato.it Grazie.